Quante persone con cui avete parlato negli ultimi dieci mesi erano super scettiche riguardo a Bitcoin? Quanti chiamavano la recessione in base a dati storici? Quanti vi hanno detto che saremmo andati nuovamente a nuovi minimi? Bene, quelli si chiamano Permabers e in questo momento stanno letteralmente piangendo perché il prezzo di Bitcoin si trova a 52.178 dollari in questo momento. E la candela mensile che stiamo avendo adesso è davvero mostruosa, ve la faccio vedere. Guardate qui che candela mensile che c'è qua. E non abbiamo poi molte resistenze sopra le nostre teste per poter tornare a ritestare nuovi massimi. E sicuramente sono le carte in gioco di quest'anno, nuovi massimi. Parliamo di prezzi che possiamo vedere sopra i 70.000 dollari quest'anno. Ora nulla è garantito ed evitiamo anche di fare troppo fumo. Dovete sempre rimanere coi piedi per terra e se dovete fare take profit durante il percorso fatelo. Io l'ho fatto, se dovete farlo fatelo, se avete bisogno di liquidità fatelo. Mi raccomando fatelo sempre perché avremo bisogno di liquidità. Non sarà tutto un salire, ci saranno alti e bassi, ci saranno higher lows e higher rise. E quindi dovete capire che in quei momenti dovete avere abbastanza liquidità per comprare i dip. Io se vi ricordate avevo scaricato 49 e poi quando era salita la news dell'etf, poi quando era sceso nuovamente ho ripreso quello che avevo venduto 49 e l'ho rimesso dentro a quando siamo tornati verso i 40. Ed è stata una mossa per me che continuerò a fare nel tempo, che continuerò a fare questo tipo di mosse su bitcoin nel tempo. E continuerò a dirvelo in anticipo, non dopo, ve lo dico prima, se seguite tutti i video ogni mattina o se mi seguite su Twitter. Ad ogni modo adesso io vi ho detto che secondo me il prezzo di bitcoin salirà a nuovi massimi, molto probabilmente, perché non vedo motivi per cui non debba farlo, onestamente. Vedendo l'amount di buy che c'è a livello istituzionale. Sulla parte del retail sono ancora un po' scettico, secondo me i retail si devono svegliare un po', devono iniziare a prendere in mano la situazione, perché sono i primi che fanno panico e sono i primi che arrivano sempre in ritardo. Però se andiamo a vedere il quadro generale della situazione qui, onestamente se il mercato azionario è tornato a nuovi massimi con discreta facilità, nonostante tutto, a livello di economia, se andiamo a tagliare i tassi di interesse, che sarà in giugno a questo punto probabilmente, o maggio, adesso andiamo a vedere poi nel dettaglio, non vedo motivi per cui bitcoin non debba tornare oltre i 70.000 dollari, o comunque andare a ritestare i 70.000 dollari. Ed è per questo motivo che sarà lì, in Price Discovery, che io inizierò a riscaricare delle posizioni. Potrei farlo anche prima durante il tragitto, e magari lo farò, dipende dal sentimento, però comunque scaricherò sempre quelle piccole posizioni che andrò a riprendere poi più in basso, sempre con una distanza almeno del 15-20% da dove le ho vendute, così riesco bene a fare un'accumulazione intelligente, non a vendere a 60 e ricomprare a 58, non avrebbe senso, perché voglio ottimizzare il mio costo, che è il mio costo medio, e quindi questo è il mio piano sostanzialmente che io vado a fare, sempre su bitcoin. Le altcoins, come sapete, io le ho accantonate, a parte qualche due o tre altcoins che potrei anche aver preso, tolto, o comunque che potrebbero anche interessarmi, generalmente io preferisco accantonarla, a me le altcoins non servono più generalmente nel mio portfolio, perché preferisco rimanere su bitcoin, concentrarmi solo su una cosa, poi io investo anche in stock market, quindi non posso avere troppe cose nella testa. Ovviamente molte delle persone amano le altcoins, molte delle persone trovano più opportunità nelle altcoins che su bitcoin, pensando che le altcoins, siccome valgono meno, possano triplicare il loro portfoglio, quando in realtà non è così, non è sempre così, perché la difficoltà delle altcoins è andare a trovare i progetti giusti, perché se tu ti mischi in tante altcoins, e 10 di questi su 10, 9 falliscono, comunque non si muovono, o sono delle catastrofi, era meglio che te ne stavi in bitcoin, alla fine del discorso, è questo. Quindi, insomma, questo era solamente un discorso per farvi capire qual è il mio ragionamento. Per il resto anche Ethereum sta salendo abbastanza bene, come vediamo, il mercato azionario continua abbastanza bene, tra l'alti e bassi, sì, sull'ultimi speech della Fed, che poi andiamo a vedere. Le altre altcoins, come Solana, vedete, Solana 116 sta andando molto forte, Link, TIA, un po' le abbiamo viste anche ieri, 6, Atom, Avax, ADA. Alcune di queste devono rompere l'inservare e continuare il pattern sul mensile, alcune l'hanno già fatto, quindi la maggioranza però sul mensile ancora deve prendere potenza, perché in testa c'è bitcoin adesso e così come c'è la sua dominanza. Finché bitcoin non troverà un top temporaneo, le altcoins difficilmente saliranno, a mio parere. Quando bitcoin trova un top temporaneo dopo un pump e lateralizza, le altcoins vedrete che saliranno subito dopo, che la dominanza scende, lui lateralizza e saliranno. Ragazzi, io vi ricordo sempre l'offerta di Bybit, 15 euro prelevabili senza vincoli, su un deposito minimo di 100 dollari e meno 30% sulle trading fees. A scadenza richiedete anche la carta che trovate tutto in descrizione del video e se avete già un account potete con un altro documento approfittare di queste offerte, così come il 12 ore di video corso gratuito di trading e il mio libro From Dinosaur to Digital in descrizione del video. Basta che vi scrivete sulla newsletter gratuita di MindTheChart, qua, io, mindthechart.io e trovate tutto quanto, sempre in descrizione ve li lascio io, molto semplici. Andiamo a vedere perché bitcoin si è mantenuto intorno ai 52.000 dollari, questo l'abbiamo visto molto bene. Ethereum anche, è salito parecchio bene. Solana, abbiamo visto tutto quanto. Siamo tornati ai livelli pre-crollo di TerraUSD. La capitalizzazione è salita sopra i 2 trillion e questo è successo dalla prima volta, da aprile 2022. Tutto questo perché è il debutto dell'ETF che stanno comprando come pazzi, l'alving di bitcoin che sta arrivando, le aspettative dei tagli e dei tassi di interesse, quindi il cambiamento delle politiche monetarie, la liquidità globale che aumenta e così via. Questo sta facendo performare molto bene quasi tutti gli asset, non solo bitcoin. Ovviamente abbiamo anche alcuni altcoins come vi ho detto, Solana, abbiamo Ethereum che stanno performando ok, ci sono anche altre che performano molto meglio ma sono altcoins senza price action vecchia, quindi c'è tutta la questione di c'è stata pre-sale, sì, c'è stato l'airdrop, sì, c'è stato il lancio, sì, c'è stato la pubblicità, il marketing, sì, sono i venture capitalists che stanno comprando, sì, capito? Quindi è molto difficile determinare quanto valga effettivamente un TIA, quanto valga effettivamente un Manta, adesso che hanno appena lanciato, cioè lo dobbiamo vedere tra magari un paio d'anni, capite? Mentre quelle un po' più affermate, che sono già qua da un po', le vedete le price action e vedete che non è che stiamo performando alla grande, a parte qualcuna, tipo Solana o qualche altro. Ok, il Fear and Greed Index è al suo livello più alto in questo momento, che va a toccare i livelli massimi del 2021. Total Value Lock su Solana è il 944% aumentato, anche Ethereum stiamo aspettando questo aggiornamento d'encom per migliorare tutta una serie di performance, fees e layer 2 entreranno poi anche loro in una competizione mica da ridere, quindi interessante tutto ciò che andremo a vedere. Anche le azioni di Coinbase hanno registrato un aumento del 37% nella settimana precedente della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre, gli analisti si aspettano a volumi forti di trading, un aumento dei ricavi del 22%, nonostante ciò alcuni pensano che le ETF potrebbero portare via una fetta a Coinbase, anche se io penso che non è così, perché poi alla fine chi entra sull'ETF non entra su Coinbase, cioè sono due mercati diversi. Chi vuole usare Coinbase usa Coinbase, parliamoci chiaro, come chi vuole usare il SafeCastity usa il SafeCastity, quindi non penso che nessuno si porti via niente da niente, onestamente, però potrebbe anche essere, quindi lo vedremo. Comunque ancora coinvolto nella causa con la SEC e dovremmo vedere come andrà, tra l'altro volevo vedere se dargli un occhio a Coin per vedere come sta andando, e vedete qui, anche lui in questo momento sul mensile non ha rotto bullish i 184, quindi è tutto dietro Bitcoin in questo momento, ok? E Coin se vuole rompere i 189 qui deve fare un IRA, altrimenti entra in un pattern di compressione sul mensile. Quindi è ancora presto per giudicarlo, ma lo vedremo più avanti. Andiamo avanti perché Gary Gensler, che poi andremo a vedere nel video tra poco, il presidente della SEC mette sotto scrutinio Bitcoin e ne mette in dubbio gli utilizzi durante, nonostante l'agenzia abbia approvato l'ETF quest'anno. Gensler sottolinea che l'approvazione dell'ETF Bitcoin da parte della SEC non è un'approvazione da classe di asset Bitcoin in generale, critica la sua centralizzazione, la decentralizzazione, insomma, viene criticato. E qua andiamo a vedere un attimo l'intervista, così la vedete bene. Is that the problem, though? It's not necessarily Bitcoin, the underlying asset, but more the froth and the potential for fraudsters to use it that has been a concern? Well, this is a field, Becky, that's been rife with fraud and manipulation. And look at all the bankruptcies. And you've had on this set people talking about those various bankruptcies. And it's not just one entity. It's entity after entity after entity. And then investors are just lining up in the bankruptcy court. What do you make of, and this goes to the underlying piece of this, you've heard... Ovviamente, cioè, le banche stanno avendo molti problemi. Però, questo passa meno... Come meno rilevanza e importanza di quanto potrebbe passare qualsiasi altro problema sulle cripto, perché ovviamente ci sono loro dietro a orchestrare i salvataggi delle banche. Jamie Dimon say that he would close it down, that basically Bitcoin is... You've seen the comments, right? It's not just that he'd close it down, that he would say it's, you know, used by drug dealers and used by folks who are doing all sorts of illicit and terrible things. There's very few things that trade today that people talk about like that. Now, there are, obviously, frauds and things that happen, but maybe not like this. Like the dollar is like a hundred times more. Esatto, cioè, con il dollaro è molto più facile partecipare a questo tipo di metodologie illegali, perché comunque vanno a tracciare il cash, non è così semplice a tracciare il cash, mentre Bitcoin è un open ledger pubblico, cioè le transazioni sono tutte pubbliche. But I'm just curious how you think about that. That's true though. This is how much has been money laundered with Bitcoin. This is how much, this is Bitcoin, this is... Ha ragione perché dice che il money laundering con Bitcoin, che viene utilizzato per Bitcoin è così, con i dollari è così. Mentre Gary Gezer controbatte e dice, sì, ma non è tanto il money laundering, è gli attacchi ransomware. Yes, Joe, but look, here's the Jamie Dimon quote. The only true use case for it is for criminals, drug traffickers, money laundering and tax avoidance. Yeah, I know, but we have a guess. That's his opinion. We have a guess, Joe. What is your opinion? And what is your opinion that we have something trading on the exchange for the public that has this type of use case, at least as described by the president of one of the largest financial institutions in the country? Yes, it's the leading market share in ransomware and that's publicly known. Ok, è il market leader della ransomware e quindi secondo lui questo è il problema principale. Beh, comunque oggi farò un approfondimento sul mio canale, Marco Galazzi, dedicato a questo, quindi andremo a trattarlo più nel dettaglio. Comunque andiamo avanti perché il numero di whales di Bitcoin, quindi le entità che detengono almeno 1000 Bitcoin, è aumentato, è aumentato ovviamente come possiamo vedere nelle ultime settimane coincidendo con l'aumento del prezzo di Bitcoin da 38.000 a 51.000 dollari. Attualmente ci sono 1.602 whales che girano nell'acqua, il numero più alto degli ultimi tre anni e durante l'ultimo rally 2021 il numero di whales era diminuito. Quindi questa cosa è interessante. Questo trend attuale, anche questo causato da ETF e quant'altro, quindi il numero di whales aumenta e va bene così. Uno di queste sono io, no scherzo. Andiamo a vedere anche il ciclo di halving di Bitcoin perché questo si riferisce all'evento ricorrente, come potete vedere, che riduce le ricompense della blockchain pagate in Bitcoin e date ai miners per convalidare le transazioni e creare nuovi blocchi. Questa riduzione avviene approssimatamente ogni 4 anni quando il numero totale di blocchi sulla blockchain raggiunge una certa soglia. E l'obiettivo è mantenere la scarsità di Bitcoin diminuendo gradualmente il tasso di introduzione di nuovi Bitcoin in circolazione. Questo va a creare la supply shock unito a tutto quanto. Perché adesso cosa succede? Con tutti i buy che vengono fatti sull'ETF ogni giorno vanno a sorpassare i Bitcoin minati, quindi con la supply shock si va a creare la scarsità, il prezzo dovrebbe aumentare nel tempo. Abbiamo anche l'ETF di BlackRock che ha registrato un nuovo volume con 24 milioni di azioni scambiate nel corso della giornata, pari a un valore di 700 milioni di dollari. Sono insaziabili in questo momento. Grandi istituzioni continuano ad accumulare Bitcoin nonostante il rialzo e i fondi ETF di Bitcoin hanno raggiunto i piccoli 631 milioni di dollari il 13 febbraio. I dati on-chaini mostrano la diminuzione dell'offerta di detentori a breve termine, il che potrebbe portare il prezzo di Bitcoin oltre i 55 mila dollari. Siamo sotto meta in questo momento, decimi in classifica con Bitcoin, come vedete qui. Incredibile. Abbiamo anche i dati sulle vendite al dettaglio, tornando alla macro di gennaio che saranno il punto principale. Le aspettative variano per molti indicatori tra le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione, l'indice di produzione e quello manifatturiero di Philadelphia. Ovviamente abbiamo attenzione anche il dollaro, che dopo gli ultimi dati di inflazione era andato a salire un pochettino, che è tornato un po' giù. I dati martedì hanno mostrato che il tasso di inflazione è sceso. Adesso stiamo aspettando le politiche monetarie. No, è sceso dal 3.1 al 3.4 di dicembre, ma è risultato superiore alle previsioni del 2.9, quindi è salita l'inflazione un pochettino. Nel frattempo il presidente del Chicago, Gooseby, ha detto mercoledì che la Banca Centrale dovrebbe stare attenta a non aspettare troppo prima di tagliare i tasse, quindi darsi una mossa. Il vice presidente Michael Barr ha anche detto che i dati sull'inflazione indicano un percorso accidentato verso l'obiettivo del 2% di inflazione, quindi attenderemo anche tutti questi tipi di dati qui importanti per il mercato. Quindi ragazzi, io non ho altro da aggiungere nell'appuntamento di oggi. Mi raccomando, rimanete sul pezzo, state molto attenti, iscrivetevi al canale con la campanella, non senza campanella, altrimenti vi perdete i video e lasciate un bel commento cosa ne pensate del discorso di Gary Gensler, cosa ne pensate del prezzo di Bitcoin e se riusciremo ad andare a 55.000 dollari. Io vi saluto, come sempre, e ci vediamo alla prossima.